Come riferito da Calcio e Finanza non è stato il cosiddetto boom di spettatori per la partita Juve-Siviglia trasmessa in chiaro su Rai 1, oltre su Dazon e Sky. L'incontro è stato visto infatti da 3.772.000 spettatori pari al 18% di share. Pre post nel complesso 2.621.000 meno 13,7% nel dettaglio primo tempo 3.800.000 meno 17,6% secondo tempo 3.674.000 meno 18,5%. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!